Lago, una bella giornata di sole e il benvenuto a mister Silvio Paolucci, nuovo allenatore del Verbagna Calcio. Arriva in una bella città, arriva in una società che comunque si è riorganizzata, si è data una nuova immagine. Il pubblico è sempre tanto, c'è tutto per fare bene. Sì, la situazione non è delle migliori, però sono venuto qui con tanto entusiasmo, voglia di far bene. La squadra secondo me ha delle ottime potenzialità, è difficile ma noi ci proveremo perché sono convinto che possiamo raggiungere l'obiettivo. Tante belle piazze, anche da giocatore, un gol alla Roma se non ricordo male in Serie A, una ventina di presenze con l'Ascoli e una città che comunque ha visto tanto di calcio. Come vive chi ha provato le grandi piazze, un'esperienza così, in una città che nel suo piccolo di calcio qualcosa ha detto? Io ho parlato col Presidente, ho parlato col Direttore, mi hanno fatto una grandissima impressione di persone serie, per bene, che vogliono far bene. Penso che questo sia importante al di là della piazza. Poi Verbagna è una cittadina bellissima sul lago, quindi sono venuto veramente con tanto entusiasmo e tanta voglia di far bene. Ho rifiutato diverse situazioni importanti, ma ripeto, per me questa è una situazione giusta, sono convinto che possiamo far bene e vengo qui con umiltà ed entusiasmo. Ecco, andiamo un pochino magari a ricostruire come si è arrivati a Paolucci, o meglio come Paolucci è arrivato a Verbagna. Ma questo forse lo devi chiedere al Presidente, al Direttore Sportivo, a me, mi hanno chiamato loro, quindi ripeto, sono venuto, ho accettato subito perché Verbagna è una piazza che può far bene. Poi mi hanno parlato benissimo sia del Presidente che della società, che della squadra, quindi ripeto, sono venuto con entusiasmo. È difficile, ma noi possiamo farcela. Si può fare, quindi, insomma, il messaggio, non la promessa perché promesse nello sport non se ne fanno, il messaggio per i tifosi è noi ci proveremo fino all'ultimo secondo. Quello sicuramente sì, sono convinto che ce la faremo.